Sambato 16 dicembre vi aspettiamo per la consueta cena di Natale della S. Colombara giunta alla quarta edizione quest'anno tantissime novità per voi quest'anno come menù vi proponiamo antipasti misti lasagne polpettone con contorni misti pandoro e panettone il tutto ovviamente servito nei nostri fantastici camerieri ci sarà la classica lotteria e come novità assoluta di quest'anno il doctor why chi vincerà l'ambito primo posto vi aspettiamo sabato sera 16 dicembre presso il teatro dell'oratorio via giovanni della casa ore 20 e 30 anche quest'anno è Natale ai nostri colori